E' una persona buonissima, da cui si può avere tanto e non chiede nulla in campo. E così è andata per Roberto Cazzaniga, pallabolista professionista ex Maglia Azzurra, truffato da quella che lui credeva fosse la sua fidanzata, ma che in realtà non esisteva. Ha dato tanto ma non ha ricevuto nulla, come dice il suo allenatore. In tutto ben 700.000 euro versati in 15 anni ad una donna che non aveva mai incontrato. E' una persona molto fragile che è caduta in un tranello veramente cattivo. Innamorato perdutamente, pazzo di lei pur non avendola mai vista. Era convinto che quella voce suolente, che sentiva il telefono sotto lo pseudonimo Maia, fosse la modella mozzafiato Alessandra Ambrosio. Ma, come sarebbe emerso poi, era solo una truffa. A passarle al telefono la presunta modella era stata un'amica, una certa Manuela. Contatti telefonici tutti i giorni, prima degli allenamenti, la sera al momento di andare a letto. Lui perde la testa, ma di lei vede solo fotografie bellissime. I primi ad insospettirsi, amici e compagni di squadra. Negli ultimi anni è arrivato a chiedere soldi in prestito, quindi abbiamo iniziato a preoccuparci di questa situazione e ci siamo messi ad indagare. Iniziano le richieste di denaro, con scuse plausibili, un regalo, il bancomat bloccato, ma mai nessun incontro. Troppi viaggi di lavoro, troppi impegni e poi una grave malattia al cuore per cui era spesso ricoverata. Fatto sta che, regalie dopo regalie, lo sportivo è sull'astrico. Chiedeva a Roberto soldi durante questi anni per operazioni al cuore, per investimenti in azioni in borsa e questa cosa è andata sempre più peggiorando fino a quando poi non abbiamo scoperto che Roberto aveva esaurito tutte le sue disponibilità economiche. Operazioni mai avvenute, malattie mai esistite. Manuela, l'amica che le aveva presentato la fantomatica Maia, viene ritracciata a Milano a un fidanzato che, guarda caso, guida l'autorossa regalata alla donna da Cazzaniga. Lo sportivo denuncia la guardia di finanza. Viene rintracciata poi anche la voce di Maia, quella che, spacciandosi per Alessandra Ambrosio, chiedeva soldi al telefono. Si chiama Valeria Satta e vive a Cagliari, a mente di aver mentito a Cazzaniga. Dunque una voce che si finge di essere la modella che non è, di fatto mette in alto la truffa e poi questa amica, questa seconda donna in questa vicenda. Tutto ciò porta a lui, a Roberto che finisce sull'astrico, letteralmente abbiamo sentito quello che raccontano i suoi amici, chiede aiuto e bugia dopo bugia questa voce, questa Maia con il volto della modella, ma la voce di un'altra, comincia a dire che aveva problemi di salute, che aveva bisogno di ulteriore denaro per le cure e lui naturalmente l'aiuta. Monica Arcadio, poi andiamo da lei in diretta, guardate questo documento. La cosa più importante è che Roberto da oggi comincia una nuova vita, cioè lui riesce a... Non trattiene l'emozione Vito Primavera, grande amico di Roberto da dieci anni. Lui era il direttore sportivo della squadra del Castellana Grotte quando il campione nazionale fu ingaggiato e arrivò per la prima volta in Puglia. In quella stessa cittadina, Roberto tuttora vive. Ha sempre parlato della sua ragazza che non lo poteva raggiungere perché aveva dei gravissimi problemi di salute e che lui era affezionatissimo a lei proprio per questo fatto. Si era ancora di più legato proprio per le difficoltà di questa ragazza. La fantomatica Maia, i soldi, i prestiti, i debiti, i cambi d'umore di Roberto, Vito racconta tutto insieme a un altro dirigente, Fabio Malerba. Maia che aveva mille volti, cioè un giorno era una fashion blogger, un giorno si occupava di moda, era a Milano, era in America, cioè lui ha cercato in tante maniere di coprirla, di sviare, non lo so. La situazione è diventata drammatica perché lui ormai non aveva più soldi, aveva questa dipendenza che lo portava ad andare in giro a chiedere soldi ad amici, anche a conoscenti. E tutti adesso iniziano a vedere davvero primi spiragli di luce. È stata una storia d'amore bellissima, cioè Roberto era convinto, ora noi abbiamo la certezza che lui fosse soltanto convinto di avere questa storia d'amore con questa ragazza bellissima. Dunque una vera e propria truffa, truffa amorosa, e quest'amico ci dice che lui aveva un rapporto di dipendenza, era totalmente persuaso di avere una storia d'amore con questa ragazza bellissima. Ma a un certo punto Monica Arcadio sono proprio i compagni, gli amici, chi gli vuole bene, che comprendono che qualcosa non va. Parlano con Maia al telefono, lui parla con Maia, lei organizza feste a sorpresa, accadevano cose molto strane, ma questa Maia non si materializzava mai, non si vedeva mai. E dopo 15 anni che cosa hanno fatto? Alberto, dopo 15 anni, nonostante le ripetute sollecitazioni proprio nei confronti di Roberto ad aprire gli occhi, non c'è stato nulla da fare ovviamente perché lui era troppo ammaliato da questa donna, loro decidono di incominciare a muoversi fattivamente e quindi denunciare tutto. Tu pensa, ci hanno raccontato degli aneddoti veramente assurdi. Ad esempio, come tu dicevi, questa Maia che organizzava persino le feste a sorpresa, ma non solo, la Manuela, questa amica, la migliore amica di Roberto, almeno così Roberto la considerava, andava persino alle partite quando giocava a crema su al nord Roberto con gli striscioni e su la scritta Maia e con te. Quindi anche in quelle circostanze questa Maia in qualche modo attraverso Manuela era presente. Come capirete è qualcosa di assolutamente incredibile, a tratti inquietante. Allora noi ci siamo chiesti, chiaramente noi siamo vicini a Roberto e a tutte le persone che sono vittime di queste vere e proprie truffe amorose, forse anche l'ausilio della tecnologia oggi può favorire tutto questo, è vero anche il contrario. Ma noi cerchiamo di capire meglio il profilo di questo campione, così forte in campo e forse così fragile nella vita. La nostra inviata. Roberto è il gigante buono, come tutti noi conosciamo, è una persona fantastica. Anna Maria, suo marito e sua figlia rappresentano la seconda famiglia di Roberto dal suo arrivo a Castellana Grotte. Lo hanno accolto come un figlio, hanno creato un forte legame con lui, lo amano immensamente e soffrono con e per lui. Natale, Capodanno è stato sempre con noi, quando loro giocavano lui non poteva stare in famiglia con i suoi, per noi è il nostro amico. La voce rotta dal pianto, Anna Maria, racconta di com'è cambiato da qualche tempo a questa parte. Lui negli ultimi due anni, stando qui, siamo a 15 chilometri dal mare, non ha visto un giorno il mare, ma perché era presa da questa persona, presa dai pensieri, presa dalle preoccupazioni di non avere più soldi. Roberto non voleva conoscere né frequentare altre ragazze, che pure si sono avvicinati a lui. Per lui era solo Maya, non c'erano altre persone, chiaramente ne ha conosciute, però finiva lì, ma forse massimo un caffè, forse anche troppo.